Senta, scusate, in Emilia Romagna alla fine vi candiderete, correrete? Questo è un discorso che si sta sviluppando anche con le rappresentanze locali del Movimento 5 Stelle. Non avete deciso ancora? Bisogna no, assolutamente no. Ma lei, secondo me, cosa bisogna fare? Io l'ho detto più volte, secondo me bisogna, in maniera molto chiara, dare una risposta al fronte progressista. Abbiamo visto questa grande manifestazione del popolo delle Sardine in piazza. Quindi dare l'apporgio a Bonaccini, che è il candidato del centro-sinistra? Sicuramente alle forze progressiste. Se quello sarà il candidato, io sono convinto che bisogna portare in quella direzione. Tra l'altro, le posso dire... E se di riuscire a convincere Di Maio su questa linea? Non sa cosa le dico? La piazza dell'altro giorno delle Sardine, questo movimento, secondo me, ha una certa sovrapposizione, anche con molti che magari qualche anno fa partecipavano alle riunioni del Movimento 5 Stelle, ai videi e così via. Quindi rappresentano, anche dal punto di vista iconografico, proprio quello che è, secondo me, il credo di una forza progressista che sia chiaramente di vocazione ecologista. È evidente che il ministro Fioramonti non può più militare dentro il Movimento 5 Stelle. Perché è una posizione totalmente entierodossa. No, il capo politico ha semplicemente detto, dobbiamo capire come muoverci in Emilia Romagna, perché ci sono sensibilità diverse. Noi abbiamo tanti attivisti sul territorio che si stanno sbattendo da mesi per poter far sentire la propria voce, ma non è mai stato ambivalente sul che tipo di prospettiva generale va dato. Se poi sarà un candidato progressista rispetto ad un altro, non cambia. L'importante è che sia quel valore l'essere difesa. Vabbè, però la vostra lista non la presenterete. Questo ancora non lo sappiamo. Beh, mi pare abbastanza evidente. Ripeto, questo è il sintomo di una crisi profonda, perché siete in Parlamento, forti del successo elettorale del 4 di marzo del 2018, con oltre il 30% dei consensi, e oggi, a distanza di un anno e mezzo, da allora, non siete in grado neanche di presentarvi in Emilia Romagna. Io non penso che questo possa reggere... Questo è anche detto più volte anche... Però io non penso che possa reggere anche il sindaco di Imola, che era 5 Stelle. Ma Bonaccini può piacere a tutti, quindi... Sì, dopo che il PD ha infiniti problemi. L'altro giorno abbiamo letto un'intervista di Zingaretti, che cerca l'anima del PD, sembra Diogene, che sta chiuso nella botte, ogni tanto esce con la lanterna e cerca l'anima. È un dibattito in evoluzione da parte di Tadda. È un governo che veramente fatica a poter reggere l'urto dei problemi che ha di fronte.